Musica Vabbè quello che vogliamo dire non lo possiamo dire Buonasera a tutti Ciak si gira vai Buonasera a tutti Buonasera Quello che vogliamo dire non lo possiamo dire Perché altrimenti diciamo cose che non possiamo dire Esatto Diciamo quello che possiamo dire Giurimoniacce cilia Non lo posso dire Tanti auguri al nostro fratello amico Gianluca E sarà una serata magica All'insegna di vino, champagne, Don Berignone e via di scolletti Class diciamo Un po' pes Quindi Si apre una bottiglia Un bicchiere e poi si mette la bottiglia Non è che si consuma Stavolgari dei consumati la bottiglia Facciamo gli auguri anche a mia moglie che è anche il suo complesso Anche a Emma Ma non è presente in questo Ma non è presente in questo Fanno la seconda parte tutte donne Auguri a Emma Sanno meglio staccato All'ambiciniera Non ti tenete a nessuno Gianluca un bel regalo tu deve avere Lo stavendo ora Esatto Stupido Allora la rubi la camera Ci vediamo Ci vediamo Ciao Ciao Sì ma tu che hai detto? No po' se mi è Gianluca Ah ma qua? E che devi dire tu? Allora devi dire una barzelletta Non ci sei partito che lei sa che partito No lei sta riprendendo continuamente Auguri Auguri Non andiamo mai da nessuna parte noi Ma io pensavo che aveva fatto questo fatto E poi mi mangiare Virginia Io vi voglio bene Invece non mi manca niente E poi mi mangiare Auguri Auguri Un bacione forte Ciao Sono Giuseppe Moscarti Ciao Tanti auguri Ti voglio bene Ah ok Cosa ti voglio Che devo fare? In quel buco c'è Gianluca Io devo parlare Cioè devo parlare qui Quindi qui c'è Gianluca Ho capito bene Gianluca mi hanno detto Che in questo buco nero C'è sta tu Auguri A te Ma Emma non ci sta per capire Ah c'è anche Emma Dicevo come ci sta Gianluca E non c'è Auguri ragazzi Siete straordinati Ho il sospetto Che ci stanno pigliando per culo Che noi stiamo parlando In una cosa Però comunque Per te e per Emma Pure se mi prendono per il culo Non fa niente Vi amo Vi voglio bene E guardate il profilo Alla francese Eh Auguri Vi voglio bene Ciao Posso uscire Abbiamo finito Veramente felice Di essere qui questa sera Con voi Però purtroppo Mi chiamano Perché devo andare a spostare la macchina Sono arrivato in ritardo Come al solito Gianluca Oh sta facendo una mano Oh Gianluca auguri In quel buco c'è Gianluca Ma no A mezza A mezza A mezza Ma come mezza In terra In terra Sì Già Salute 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 Ragazzi Allora Siamo felici Di esservi accanto Stasera Vi vogliamo un sacco Di bene Tanti auguri Che Dio vi benedica Un bacione Ciao Che succede Che succede Che succede Cioè Devo parlare qui Gianluca Guarda Come inizio E' splendido Cioè Ti dico A questo punto Speriamo Caffè Puro Vanno Che be' Posso uscire Abbiamo finito Tanti auguri Ciao Un abbraccio Auguri 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 a Emma E dai non bacia Con tutto il cuore E anche le altre due mie figlie Perché dicono Che sono geloso Uno Due Tre Ciao Emma Auguri Auguri Cento Di questi giorni 200 200 200 Di questi giorni Chi offre di più Tu sei una cosa Giaggandome Posso uscire Abbiamo finito Gianluca Non riesco A farti Innamorare Più di me Ciao Auguri Tagliate Tagliate No Ma io ho detto Ecco Cos'è 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 Di mamma Auguri Buon compiliano Auguri Mamma E papà Buon compiliano Ciao 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 Aguri Mamma E papà Buon compiliano Ciao Tanti auguri Ciao 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 Tanti auguri Buon compiliano Tanti auguri E' grande fratello 1,2,3 Ciac Ua sei Ciaccato Abbiamo stati veramente molto bravi Io ultimamente non mi sono sentito bene Tanto da dottore ho detto Senti tutto Io ho un problema La mattina Alle 8 tutte le mattine Faccio cacca Chi l'ha detto E qual è il problema E io mi sveglio alle 9 Vabbè non fa niente No 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 Facciamo un grande augurio a questa Cucca Augurio Io posso dire la mia Posso dire la mia Allora Io 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 Voglio dire la mia Auguri a Emma Sicuramente A Emma E la moglie di Gianluca E' come se fosse la stessa cosa Ma ha festeggiato i suoi 40 anni Però devo dire una cosa Io a questo inzallanuto Come me Lo conosco da più Lo conosco da più di 30 anni E veramente sono emozionato Veramente Lo conosciamo da tanto tempo Da tanto tempo 13-14 anni Abbiamo fatto un grande Ha raggiunto una bella metta E voglio augurargli veramente Che possa arrivare Come già in alcuni casi E' successo Una grande maturità E che lo conduca veramente In una vita Di quella là Che veramente si mette Ma chi ne si è laureato? Eeeeeee A maturità Ma chi ne si è laureato? A maturità l'ha fatta prima Voglio fare un saluto Il nostro amico Oggi non puoi camere? Alberto Palladino Che si trova Eh Questa è un ospitale Non sta per lavoro sulla nave Non sta per lavoro sulla nave Non c'è un saluto Alberto Siamo in una sera, nella casa Masseria Guida, la casa è la grande sorella, allora augurissimi a questi quartieri, bellissimi, festa bellissima, la sposa è bellissima, anche il sposo è bellissimo, merita, sei la neretta più bella del mondo, sei la neretta più bella del gruppo, non è vero, non è vero, un bacione, augurissimi, ragazzi tantissimi, tantissimi auguri, di buon compleanno per centissimi anni, vi vogliamo bene, ciao Gianluca, raccomando, sii forte, sono con te, sappilo, sappilo, sono con te, con me non stai, con te, con te, ciao Ciao Gianluca, auguri per i tuoi 40 anni, quando sei, quando sei, 40, 40, ti hai fatto vecchio, ma io, sono più giorni, c'è, devo parlare qui, ciao, ciao ragazzi, ma che è un professionale, non è finissima sta cosa, video play, il protagonista sei tu, Gianluca sei il protagonista, e la protagonista femminile è Emma, volevamo augurare sia a te che a Emma, che è leggermente dieci giorni più grande di te, quando puoi sapere però, ma non è vero, sei cattivo, ma come mai, ma perché sono cattivo, non è una ragazzina Emma, ho capito, ho fatto quel fisicaccio della Madonna, è di fatti Mirra, Marone, no, anche per Emma, veramente sei una persona splendida, è una donna di un certo spessore, e sei riuscita comunque anche tu a realizzare il tuo sogno, ne parlavamo un po' di tempo fa, questo è un primissimo traguardo, i 40 anni sono, noi li abbiamo già superati da qualche anno, e ti posso garantire che c'è una vita che arriva diversa, e ci saranno più impegni da sostenere, anche perché poi i figli più crescono, e più diventano impegnativi, tanti auguri, divertitevi, augurissimi, io volevo confessare la cosa, come direi che cattato regale sulla Gianluca, ti giuro, cattato regale sulla Gianluca, Emma vabbè, tu alla prossima, non è vero, non è vero, non ascoltatelo, un bacio forte, divertitevi, spero che questa sera per voi sarà una notte speciale, dateci dentro, Gianluca allontanatene poco prima, in quel buco c'è Gianluca, ciao, ciao ragazzi, Emma, Gianluca, tanti auguri, ma sta funzionando? Allora, sono passate tre ore dal primo messaggio, ci stiamo divertendo moltissimo, Emma, veramente, ora ho alzato un po' il gomito, io non bevo, un po', un tantino, un tantino, un tantino, e dopo ti farà un pezzo da soprano, non ti preoccupare, alla fine, allora, noi volevamo, buonasera, volevamo ringraziare tutti, perché sono i nostri amici più intimi che sono venuti e che veramente ci tenevamo e grazie a tutti siamo veramente tanto felici grazie è stato un compleanno bellissimo un abbraccio a tutti volete dire qualcosa ai vostri genitori? si vergognano vai amore salutate tutti gli ospiti tutti i nostri amici un bacio a tutti grazie di tutto grazie a tutti